Dopo quattro settimane in rosso, da oggi l'intera provincia di Arezzo si è svegliata in zona arancione, così come quasi tutta la Toscana. Da lunedì 12 aprile, riaperti dunque tutti i negozi, le uniche restrizioni restano per i centri commerciali nel fine settimana. Hanno poi rialzato la saracinesca parrucchieri, estetisti e barbieri, mentre bar e ristoranti potranno continuare a lavorare soltanto con la consegna a domicilio, senza limitazioni e con l'asporto sino alle 22 orario del coprifuoco. Restano poi in vigore le disposizioni che impediscono la consumazione nei pressi dei locali, ancora chiusi cinema, teatri, piscine e palestre. Dallo scorso lunedì, nonostante la zona rossa, erano poi già tornati in classe in presenza gli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e prime medie. Da oggi anche gli studenti delle seconde e delle terze medie ritornano in aula, così come quelli delle superiori per i quali però è emessa la presenza tra il 50 e il 75% in aula. Per quanto riguarda infine gli spostamenti, è possibile circolare da adesso liberamente e senza autocertificazione, solamente all'interno del comune di residenza, ma non si potranno oltrepassare i confini provinciali o regionali, se non per validi motivi.